Unica in campo, l'impavida esordisce col botto nel nuovo anno, dando continuità al colpo prenatalizio contro il Mondovì, stavolta a farne le spese il falcidiato Brescia dell'ex Cisolla. Nassieco vince, convince e riapre le porte alla speranza collocandosi a meno 5 dall'area salvezza, ma soprattutto da segnali di netto miglioramento, ancor più sul piano mentale, grazie a una concentrazione assidua mai vista in precedenza. Percentuali bulgare delle bocche da fuoco Sant'Angelo, 25 punti e 53%, Pessoa forse il migliore con 19 punti e ben 60% in attacco, 67 e 42 ricezione, nonché 4 muri vincenti, Stratosferico Fusco con percentuali pazzesche, ma anche un Super De Paola in attacco, 15 punti e 48%, un ottimo Molinari a tempo pieno, bene Capitane Elia con ferme da Ferrato, altri 4 muri e 6 punti. Squadra compatta quella di Nunzio Lanci, con poche flessioni pagate a caro prezzo solo nella terza frazione che pareva vinta, 17 a 11, 24 a 22, poi perso a 26, ma ci sta in un match stradominato e che fa pensare solo in termini positivi in prospettiva. A Cantù la prossima recupero di Castellana a parte, ma a decidere sarà soltanto il Covid prima della pausa e di una terza trasferta consecutiva a Cuneo, sempre che si giochi. Insomma un filotto incredibile che dirà molte cose del futuro di Ortona che, in ogni caso, ora è vivo e come.